è già acceso? 3, 2, ready to go. Ciao a tutti, Emerald Workshop e Emerald Gravity Division, siamo a Langeride, facciamo un piccolo follow dietro al nostro master Riccardo Fadda, andiamo pianino perché andiamo pianino, anche perché sono vecchietto, vediamo un attimino così vi racconto e vediamo Ricky, Ricky non andare troppo forte perché se no poi io ho un chilo di GoPro in testa e via. Allora la partenza è veramente low, ricorda un po' Livigno come partenza, però siamo appunto a Langeride ed è veramente bella. Allora qua continuiamo, facciamo la variazina alta, vai Ricky. Vai. Vai. E qui si molla, sta un po' più forte. Via. Ricky non cadere mai. Un doppio. Che succede? Un po' di fango. Via. Allora qua giustamente, bisogna rallentare. Passerellina. Qua si va forte, un altro bel doppio. Aspetta Ricky. Piccolo pump. Vai, puoi accelerare, vai. Vedete con i caschi aperti, killer. Il nostro amico master Riccardo Fadda, che gli voglio tanto bene. Si vede. Bella serie di curva da S. Belle. Un altro doppietto. Speriamo che non c'è il fango sulla GoPro. Io ho sbagliato. Via. Per belli alti. Qui, l'albero era vicino. Vangatta. Mi sono fatto la doccia. Qua è veramente una pista molto facile. Infatti, vedete come Enricchi la interpreta. Per sempre alti. Continuiamo, continuiamo, continuiamo. a se i nostri amici della Gravity si rompono. Giacchiatone. 40 anni e non sentirli. Virtuosismi. Pensami. Riccardo! Voi, voi, voi. Voi, vai, vai. c'è un po' di tecnica di guida gli appoggi sono veramente belli piccola North Shore dopo magari vediamo l'altra bello poi continuiamo, continuiamo, continuiamo i ragazzi lo gruppo andiamo avanti sono dietro saluta senza voce che facete? e vai chi è? go chi è? chi è dietro di me? passaggio alto, Giovanni Basso saltiamo finito il piatto belle, belle, belle wall vediamo non l'ha fatto non era pronto sono quasi morto chi siamo? no, è una parte conclusiva della pista della pista arrivano suone siamo arrivati allora eccoci qua chi è dietro di me chi è dietro di me